di rigore perché Di Michele era fuori dall'area Cassano, Eronassamp si trova nuovamente ad inseguire ma non interessante dentro Bonazzoli, Cassano! Che gol! Un colpo da biliardo, 2-2 Che gol ragazzi! Che super gol! Mi ricordo a Romario, Ronaldo con un tiro a queste palle a raso terra nell'angolino Un gol spettacolare amici Straordinario Non si può non esaltare con questo giocatore È un talento incredibile, guarda cosa fa qua Riceve la palla, lì sono sbaglio la difesa di Torino E guardate cosa fa lui È un gol semplice ma la semplicità è la bellezza del gol Guardate qua, guardate qua È un gol che sembra semplice Giuseppe Perché apre bene il piatto destro Devi metterla per forza lì perché se no Sereni la prende E Cassano la mette esattamente all'angolino È il gol del 2-2 che arriva immediato dopo il calcio di rigore di Di Michele È il settimo centro in campionato